Le manifestazioni degli anarchici, i disordini nei CPR, gli episodi di criminalità giovanile e il cantiere TAV blindato sono le tensioni sul territorio di cui si è occupato a Torino il ministro dell'interno partecipando con il capo della polizia Lamberto Giannini al comitato per l'ordine e la sicurezza con le massime autorità dell'istituzione e delle forze dell'ordine. Prima della riunione in prefettura Piantedosa ha incontrato il personale interforza e distanza al cantiere TAV di San Didero in Val di Susa. Non c'è nessuna prospettiva di riduzione, devo dire che sono rimasto, seppure nella singolarità del contesto molto favorevolmente colpito della grande professionalità che ci mettono gli operatori delle forze di polizia. Sulla criminalità giovanile il ministro ha assicurato il rafforzamento dei servizi preventivi contro il degrado urbano soprattutto nelle zone della Movida dove sarà potenziata la presenza delle forze dell'ordine. Massima attenzione ma nessun allarme per la galassia anarchica. ha poi aggiunto Piantedosi dicendosi tranquillo anche sulla manifestazione di domani pomeriggio nel centro di Torino. C'è una situazione di massima attenzione, nello stesso tempo io mi sento di confidare che a partire dalla manifestazione di domani tutto sommato ci sono i presupposti perché possa andare tutto bene. E sulla situazione dei CPR, Piantedosi sottolinea il loro ruolo nell'applicazione delle leggi per il rimpatrio degli stranieri regolari riconoscendo la necessità di un adeguamento delle strutture.